Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e siamo tornati con Minecraft signori vediamo di riprendere questa serie e continuare con i nostri progetti signori allora prima di partire dal video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date a serie e al canale mi scuso per la mancanza di episodi di questo periodo ma c'è stato un attimino un po' di impegni vari ed eventuali dopodiché signori vi ricordo che abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno io ci sto provando signori, siamo arrivati a circa il 103esimo episodio, dovrebbe essere questo ce la sto mettendo tutta, vediamo se riusciamo anche a portare altre serie mi piacerebbe signori anche perché abbiamo raggiunto un grande obiettivo in questa serie abbiamo quasi tutto nella nostra isola volante quindi c'è un pallino che mi sta girando in testa ovvero prendere il secondo binario, ovvero questo di qua questo di qua, andare nel villaggio che abbiamo da tutt'altra parte del mondo e ripartire da zero fare proprio una nuova avventura, magari già con qualche piccolo accorgimento che ci portiamo dietro per non essere proprio zero totale e provare a sfruttare nuovamente un nuovo inizio di stagione di avventura ma detto questo signori, concentriamoci sul progetto di oggi e mi raccomando iscrivetevi, dobbiamo raggiungere 2000 iscritti entro la fine dell'anno signori ci proviamo, ci proviamo e ci dobbiamo riuscire non c'è provare, come diceva il buon Yoda di Star Wars nella vita non c'è provare ma c'è fare quindi mi raccomando un bel clic sul mi piace e sull'iscrizione, sul like e su tutto quello su cui potete cliccare signori cosa facciamo nel progetto di oggi? allora, a parte che dobbiamo andare a prendere un sacco di altri pesci da mettere qui sono andate a tartarughe? no, sono sempre qua che se stanno a passare il tempo senza nulla da fare va bene, dobbiamo portare altri pesci signori perché qui voglio che il nostro acquario prolifichi ancora di più di pesci e pesciolini allora, concentriamoci sulle rane signori abbiamo detto che vogliamo fare tutta una cupola di vetro è un progetto enorme e difficilissimo ma noi ci riusciremo e lo porteremo a termine dobbiamo anche far riprodurre altre rane perché ne voglio molte di più queste sono pochine, pochine, pochine anche se vanno saltando a destra e a sinistra ne voglio molte di più gli piace l'habitat e di questo ne sono contento allora, per prima cosa facciamo riprodurre le nostre bellissime rane come si fanno a riprodurre le rane? le rane si fanno a riprodurre dandogli le palle di slimeball le palle di slimeball ne abbiamo qui nelle casse? rapida occhiata, rapida occhiata no, abbiamo una mela che però qui non c'entra assolutamente nulla c'è un delirio più totale in questa cassa siamo contenti di questo in quest'altra c'è ancora più delirio e va bene facciamo finta di nulla e andiamo a vedere se in sopra nel magazzino abbiamo delle slimeball da poter dare alle nostre bellissime rane ce ne servono magari due per farle riprodurre ancora di più dopodiché dovremo andare a prendere chili e chili di sabbia signori e iniziarlo a farla cuocere ovviamente signori come qualsiasi cosa e chi mi conosce lo sa non porteremo a termine questo progetto oggi io non ho slime che cazzo? ok c'ho un blocco di slime blocco di slime lo posso trasformare in palle di slime? giusto? sì, perfetto ne abbiamo nove e una di qua sono dieci perfetto dammene due semplici di qua e questi altri otto li mettiamo da parte dovremo anche recuperare degli altri slime in qualche maniera dovremo anche riuscirci andiamo a far riprodurre queste purtroppo sono a corto inizio tra i vari impegni lavorativi che queste settimane sono stati molto pesanti signori quindi infatti per quanto mi sono sforzato a provare a registrare a portare qualche episodio non sono riuscito a registrare molto allora rana 1 se la smettete di saltare è rana 2 voi siete le prescelte per fare nuovi girini e nuovi fichi fichi accoppiatevi signori vi ho dato vi ho dato porca miseria vi ho dato ok ho visto dei cuoricini quindi mi sa che si sono accoppiate eccoli là hanno già messo al mondo nuovi girini diventerà un mondo pieno di rane signori io riesco a uscire riesco a uscire sì ok porta chiudi la porta prima che le rane ci seguono e scappino detto questo noi dobbiamo recuperare della sabbia ah ah dove la troviamo della sabbia? non ne ho più po' di idea perché abbiamo girato un pochetto varie varie situazioni posso scendere di qua? sì ok la palla ce l'abbiamo dobbiamo trovare della sabbia andiamo in questa direzione di qua io ti ricordo che andando di là signori la sabbia c'era però il problema è trovarla di nuovo ricordo anche che noi siamo nella versione 1.19.4 non abbiamo mai ancora aggiornato il nostro minecraft in tutto questo il sole già è alto e a noi mi sa che ci conveniva portarci un lettino per raccogliere per dormire mentre raccoglievamo tutta la sabbia perché per far tutta quella cupola alta signori ci ne vorrà di sabbia ci ne vorrà di sabbia ci ne vorrà di tempo il problema iniziale è proprio trovare la sabbia che ci serve allora intanto direi di recuperare anche degli squid che non so se noi abbiamo ok no non avevamo mai raccolto lo squid nero e signore mi dispiace per te ma ci serve perché dobbiamo anche fare le pecore nere signori quanti ne abbiamo recuperati? 8 basta in avanzano basta in avanzano ma noi ce ne sbattiamo altamente questo lo ammazziamo pure ok me ne dà altri 2 ne abbiamo 10 e penso che 10 possono anche bastare signori 10 mi possono andare bene 10 mi possono andare bene dovremmo anche come ho detto prima andare alla ricerca di nuovi ma casa nostra dove? di là? sì quindi proviamo ad andare in questa direzione per trovare la sabbia proviamo da qualche parte dovremo pur trovare la sabbia signori è vero che ogni volta io becco deserti e cose varie e ogni volta poi finisce che la consumo tutto per fare vetro e non ci resta mai sabbia a disposizione per fare altro vetro perché dico se già lo utilizziamo per fare vetro non ce ne rimane per fare altro vetro e che dirvi signori anche agosto è finito siamo arrivati a settembre tra un poco ripartono le scuole tra un poco dovrebbe uscire FIFA mi piaceva portare la serie della carriera allenatore e portare avanti anche quest'altro progetto magari metteremo un attimino da parte qui c'è dell'esperienza morta qui ok che pigliamo ma lasciamo perdere sia le ossa sia la freccia che non ci servono signori non ci interessano in questo momento con queste cose e poi può che dirvi ripeto ho un attimino il vuoto di eventuali progetti qui su Minecraft perché abbiamo fatto quasi tutto signori è vero ci manca una struttura dove poter mettere in esposizione l'uovo dove poter mettere in esposizione la testa del drago dobbiamo dobbiamo fare il primo volo con l'elitra che non l'abbiamo mai ancora fatto che si bloccherà palesemente tutto il computer lo sappiamo tutti soprattutto chi segue la serie dall'inizio sa che ci sono delle laggate terribili nel mio computer però cercheremo anche quelle di affrontarle e di sconfiggerle in tutto questo a me serve della sabbia un ragno che non mi interessa non so di preciso dove stia andando signori sto andando all'avventura questa cosa non è non è non è ottima perché ci stiamo allontanando da casa senza un vero e proprio cosa è quella cosa ah un ragno avevo visto muoversi qualcosa non capivo cosa fosse e là c'è un creeper ok non vedo un creeper che va a fuoco un creeper con sopra uno scheletro che stava andando a fuoco ottimo che cosa carina che belle avventure mamma mia allora quella ce l'ho messa sicuramente io signori quella è una roccia che ho messo io e quindi diciamo che sicuramente di qua già ci siamo passati stiamo andando in un'avventura che non ha molto senso signori qua ci sono dei blocchi di pietra lasciati così a casa che non capiscono nemmeno il motivo avevamo un creeper dietro che è sparito però va bene non abbiamo un lupo signori ecco ecco cosa cosa realmente ci manca ecco cosa realmente una cosa che ci manca a casa nostra sono i lupi non abbiamo dei lupi signori però abbiamo uno scheletro che ci sta rompendo le scatole guarda lì che gran bel bloccone che abbiamo di sabbia da portarci tutto a casa signori senza se senza ma questo lo distruggiamo tutto senza problemi vai così sali qui abbiamo qualcuno che ci rompe le scatole sì c'è quello scheletro là sotto che ci può rompere un attino le scatole purtroppo è calata la notte questo ah vabbè là c'è pure sabbia come se non ce lo sono domani va bene aggiungiamo una semplice bisteccozza noi abbiamo già in inventario 16 di sabbia signori che non ci bastano male la vita iniziamo a darci alla gioia signori distruggiamo distruggiamo conquistiamo tutta quanta la sabbia che possiamo conquistare allora da dove passiamo da qua effettivamente però scusami questo distruggilo così riusciamo ok distruggi anche questo perfetto e iniziamo a recuperare quanta sabbia vogliamo recuperare signori io direi almeno due stack sicuro due stack di sabbia ci servono come se ne vanno come niente per fare tutta quella copertura che abbiamo in testa in idea di fare che non è per niente una cosa piccolina quindi iniziamo a recuperare come se non ci fosse un domani così perfetto l'abbiamo detto la distruggiamo tutta questa questa montagna completamente come se non ci fosse un domani il mondo ce l'ha data e noi ce la prendiamo già abbiamo raggiunto uno stack di sabbia occhio alla pala se si dovesse rompere sono cavoli perché non ho intenzione di di andare con la palla di ferro ma penso che riusciamo a portarci a casa tranquillamente il necessario senza dover star lì a perdere troppo 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 tempo quello lo potevo lasciare perdere perché come lo recupero questo però lo recuperiamo ok abbiamo recuperato tutto ho sentito i passi di uno scheletro se mo sentiamo pure una freccia scoccata vuol dire che ci sono dei mostri nelle vicinanze ma che non ce ne frega assolutamente nulla perché siamo invincibili signore con questa mitica armatura siamo invincibili una cosa che potremmo fare anche signori è quella di è quella di aggiornare ovviamente la stagione quindi portarla alla 1.20 come diciamo è giusto che sia e vedere un attimino tutte le varie aggiornamenti fare qualche costruzione con quelle che oramai già sono diventati vecchi questi aggiornamenti senza ombra di dubbio però noi noi siamo noi abbiamo i nostri tempi signori noi non non ci facciamo prendere fretta da nessuno allora noi abbiamo uno stack due stack e 40 chi siamo noi per limitarci a due stack e 40 signori chi siamo noi nessuno quindi ci pigliamo tutta quanta la sabbia che ci serve senza ombra di dubbio oramai portiamo a pari questa portiamo a pari questa non facciamo poi altri scavi strani portiamo a pari questa di qua quindi i tre stack ce li abbiamo sicuri i tre stack ce li abbiamo sicuri se mi dovesse mancare la sabbia signori è un grosso problema se mi dovesse mancare il vetro per tutta la costruzione che dobbiamo fare potrebbe essere un problema abbiamo preso tutta quanta la sabbia se questo blocchetto qui da solo ok ok là ce ne sono degli altri no allora tre stack e 39 tre stack e 39 è proprio un numero brutto proprio brutto 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 eh tre stack e 40 mi sta bene ok ok diciamo che che va bene ora se ricordo bene noi dovremmo riuscire a tornare a casa in questa direzione c'è ancora lo scheletro che rompe le scatole ma noi non gli diamo retta e ce ne torniamo velocemente a casa mi sono preso le coordinate di questo di questa zona assolutamente no però l'altra volta ho visto una cosa graziosa nel nel nei video di Stepney ovvero che lui ha un diario che si porta dietro un diario che si porta dietro di quelli che si possono scrivere in cui si segna tutte cose su quel diario così è sicuro che qualsiasi cosa ce l'ha segnata e non deve perdere tempo a prendere coordinate a cercare fogliettini penne quello e quell'altro direttamente col tacquino del videogioco si segna tutto ed è una una gran bell'idea una gran bell'idea che potremmo anche noi sfruttare aspettate che devo fare il giro qua del del della voragine della voragine stiamo andando nella direzione giusta non è la più parli di idea questo zombie non mi sta per niente simpatico forse si forse si abbiamo girato la voragine che abbiamo visto prima giriamo anche il creeper che abbiamo visto prima e cerchiamo di arrivare a casa cerchiamo di arrivare a casa segnale mettiamo tutta la tutto il vetro a cuocere qui c'è la riunione notturna degli scheletri ok siamo nella foresta di Betulla dove siamo passati poc'anzi quindi in teoria la direzione è giusta forse si forse no da qualche parte sbucheremo sicuramente quindi continuiamo dritto in questa direzione dicevo che arriviamo a casa mettiamo a cuocere iniziamo a mettere a cuocere tutto questo vetro e poi ci vediamo domani signori per continuare la costruzione di questa bellissima palla di vetro che serve grazioso anche farla di due colori in teoria ma non sono cose che noi riusciamo a fare non sono cose che noi riusciamo ad organizzare è troppo complicata signori è troppo complicata allora qui ci sono gli alberi gli alberi di legno di legno scuro di legno scuro ma noi in che cazzo la direzione stiamo andando questa è una bellissima domanda alla quale troveremo risposta guardando le coordinate allora 341 ok perfetto allora la direzione è giusta signori andando sempre di qua forse magari se riusciamo no così stringiamo troppo così e così allora ok dobbiamo andare in questa direzione qua se andiamo in questa direzione qua dovremo raggiungere la coordinata 0 che sono le coordinate di casa nostra ci usciremo non lo so però la strada è questa la strada è questa non siamo tanto tanto lontano 300 blocchi abbiamo fatto anche di peggio abbiamo fatto anche di peggio ora mi piacerebbe allora iniziare una nuova stagione perché comunque iniziando una nuova stagione tu rinizii da capo e hai sempre nuove idee e nuove cose da rifare però col fatto che sta uscendo FIFA mi piacerebbe portare anche una stagione della carriera allenatore e poi forse mi diventerebbe troppo troppo impegnativo preferisco poi una volta che esce FIFA concentrarmi su quello e non e non portare troppe serie contemporaneamente che magari poi da varietà al canale su questo non lo metto in dubbio però crea anche un po' di confusione secondo me si crea un po' di confusione quindi per ora ci concentriamo qui c'è una palude sarà la palude di casa nostra? forse si perché quegli alberi lalti su quella montagna me li ricordo però non ricordo se questa è la palude di casa nostra vediamo se a un certo punto spunterà qualcosa che ricorda la nostra la nostra bellissima casa intanto noi siamo sto registrando da 20 minuti per non aver fatto assolutamente nulla però è bello è bello anche questo questo ragno ci punterà male perché giustamente è arrabbiato con noi ci sono tanti scheletri ma non ricordo eccola qua la nostra base è bellissima ok ce l'abbiamo fatta dai in 24 ore di gioco siamo riusciti a portare a casa un obiettivo importante un obiettivo importante ma sono lì le nostre run? ah le nostre run sono lì che cosa carina lì poi quindi verrà tutta una cosa di una palla enorme di vetro che cosa carina dovremmo anche illuminare tutta la parte sotto dobbiamo mettere tutte queste queste lucine tutto sotto ovunque e quella è pure un'altra cosa da fare quella è pure un'altra cosa da fare diciamo che ci sono tanti progetti da portare a casa è solo che manca un po' il tempo manca un po' il tempo signori voi se avete delle idee datemelo non so chi sarà arrivato a questo punto del video penso in pochi però se avete dei suggerimenti da dare per nuove nuove strutture io sono qui pronto ad ascoltarvi signori ad ascoltarvi e eventualmente a valutarli con voi allora mettiamo a cuocere tutto questo vetro che ci vorrà un'infinità infatti mi sa che domani faremo qualche altra cosa perché prima che tutto questo vetro cuoce signori ci vorrà una caterva di tempo detto questo signori il vetro ha iniziato a cuocere noi da dove ci siamo salutati per iniziare il video ci salutiamo per finire il video detto questo signori io vi ringrazio per guardare questo video vi ringrazio per i like per i commenti per i suggimenti e per il supporto noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao mi raccomando iscrivetevi